Alle critiche dei sindacati, arrivate in queste ore sulla presunta mancanza di personale all'ospedale di Bassano, Zaia replica così. Risposta chiara e netta. Su Bassano, proprio in virtù del fatto che c'è anche questa realtà di una ULSS riconosciuta al territorio di Bassano e la Piedemontana, si faranno gli investimenti che si debbono fare, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Forse molti si sono distratti, ma ad esempio ricordo che a Bassano c'è il robot di chirurgia da Vinci, che molti grossi ospedali in giro per l'Italia non ce l'hanno. In questi mesi in effetti non abbiamo sentito le rappresentanze sindacali stracciarsi le vesti per ottenere l'ULSS del Bassanese, che ricordiamo permetterà di prendere le decisioni che contano direttamente sul territorio e non dover ascoltare i diktat di realtà distanti. Quindi i sindacati arrivano fuori tempo massimo. Il governatore poi ha affrontato il tema dei vaccini, dice di avere le idee chiare, con i casi di bambini non vaccinati che vengono colpiti da malattie che si pensavano sconfitte in aumento. Abbiamo un bel progetto in mente, penso che nelle prossime ore, nei prossimi giorni ne parleremo, sicuramente non l'antecipo oggi. Posso però dire una cosa, che vedendo i dati ho l'impressione che il problema più che di obbligatorietà sia culturale. Guardate bene i dati e guardate anche dove si va a vaccinare con l'obbligatorietà, quali sono le obiezioni di coscienza da parte dei genitori. Zaia conclude parlando delle bandiere listate a lutto in alcuni comuni nel giorno in cui si celebra il prebiscito di annessione all'Italia del Veneto. Noi non condividiamo la china che ha preso questo paese, che è una china centralista, che non riconosce più le autonomie, che non riconosce più l'essere padroni a casa propria.